Oltre 700 partecipanti, più di 200 macchine agricole e una cinquantina di cesti con i prodotti tipici del territorio berico che, al termine dell'evento, sono stati messi a disposizione della parrocchia per le famiglie bisognose della zona. Sono questi i numeri dell'edizione 2019 della giornata del ringraziamento provinciale di Coldiretti che si è svolta a Rosà alla presenza di numerosi sindaci con in testa il sindaco di Rosà Paolo Bordignon, parlamentari rappresentanti delle categorie economiche di enti e associazioni del Vicentino. Grazie.